Grazie. Insieme a tanti fratelli, sacerdoti, religiosi, religiose, laici, abbiamo preso maggiore consapevolezza della grandezza e gratuità della misericordia di Dio Padre verso ogni uomo, verso l'umanità, per ciascuno di noi, verso la Chiesa, ma anche abbiamo preso consapevolezza della nostra vocazione di figli, destinatari e ministri della misericordia. Vogliamo soffermarci brevemente su alcune consegne che ci affida l'anno santo che stiamo concludendo. Innanzitutto una consapevolezza consolante e gioiosa. La natura di Dio è misericordia. Misericordia è il nome di Dio. E' la carta di identità di Dio. Papa Francesco, al giubileo dei detenuti, così ha detto. Imparando dagli sbagli del passato, si può aprire un nuovo capitolo della vita. E del Figlio e dello Spirito Santo. Amore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Cari fratelli e sorelle, benvenuti nella casa del Signore. Per l'ultima volta vogliamo marcare questa porta santa, conclusione dell'anno della misericordia. E poi esprimere nella celebrazione dell'Eucaristia il nostro ringraziamento al Signore per i fiumi di grazia che ha riversato sulla Chiesa e sulla nostra comunità diocesana. Formeremo ancora una volta un percorso di pellegrinaggio e poi ci sistemeremo in Chiesa come popolo ordinato per celebrare i Santi Misteri.